Stanno lavorando, lo vedete alle nostre spalle, l'Euroflora di Jessica e Vittorio Melone che allestiranno come ogni anno parte della scenografia di Telemolise nel cuore, il gran galà di Domenica Sport chiediamo direttamente a titolare qual è il tema però di quest'anno. Quest'anno ci siamo basati sul tema sottobosco, inquadrando anche la scenografia qui proposta da voi e abbiamo ritenuto mantenerci abbastanza in questo tema diverso. L'anno scorso abbiamo preparato un tema molto più impegnativo, quest'anno altrettanto però ci siamo basati su una cosa più lineare. Parlavi prima, è troppo giallo, c'è un po' troppo rosso, stiamo per l'appunto lavorando in presa diretta per aggiustare e rendere naturalmente un'atmosfera anche magica per chi sarà questa sera qui con noi ma anche un bel colpo d'occhio per chi ci seguirà da casa. Certo, sicuramente, stiamo finendo gli ultimi accorgimenti però stiamo valutando il colore adatto per rendere magica la serata di stasera. Ringraziamo tra l'altro sempre per la scenografia anche la Ballum Art di Michela Natale e in particolare tra l'altro anche la famiglia Tronca che ci ha offerto questa composizione di palloncini. Ma qui al mio fianco c'è chi sta lavorando anche da ieri, Gian Claudio Piedimonte con la MTM per quanto riguarda l'allestimento anche dei led wall alle spalle. Quest'anno il direttore Antonio Di Lallo ti aveva chiesto delle novità e tu le hai subito portate in scena. Sì, abbiamo sempre una scenografia con i led wall, con degli schermi led, questa volta invece di uno schermo unico centrale avremo due schermi laterali con un banner centrale e avremo un fondale su cui creeremo qualche effetto di colori, cromatico eccetera. Chiaramente l'impegno più grande è allestire per la diretta tutto quello che c'è dietro, quindi le luci, l'audio e i ragazzi appunto di Telemolisi lo sanno bene quanto lavoro c'è dietro, due giorni di lavoro per fare in modo che speriamo sia tutto ok per stasera, tutto funzioni bene. Grazie allora a te Gian Claudio, lasciamo continuare il lavoro, l'ha appena detto Gian Claudio Piedimonte alle spalle c'è veramente un grande lavoro. Questa sera alle 20 andremo in diretta su Telemolise, Telemolise 2 e anche sul Telemolise Sport per chi ci segue da Lazio vi ricordo sempre l'880 è il nostro canale e in Abruzzo il 96. Per chi invece volesse assistere in diretta a questo spettacolo potrà sicuramente venire perché l'ingresso lo ribadiamo ancora una volta è totalmente gratuito. Per quanto riguarda Telemolise nel cuore il light motive è sempre lo stesso anche in questa edizione e cioè puntiamo sul Molise perché vogliamo valorizzare gli sportivi molisani, vogliamo valorizzare gli atleti molisani e anche le aziende che per l'appunto sono partner di questa manifestazione sono tutti molisane e investono sul nostro territorio. Lo abbiamo ascoltato già anche ieri ma lo riascoltiamo anche oggi. Marcello Damiano il titolare del ristorante Coriolis qui a Ripalimosani prosegue il lavoro. Vedo già che state posizionando per l'appunto la platea per tutti gli ospiti che vorranno venire. C'è un po' di caos adesso in sala però il lavoro è anche questo. Sì, piano piano riassettiamo tutto, cerchiamo di schematizzare per far stare meglio gli ospiti e quindi tutto il discorso sarà anche con la collaborazione dei vostri sponsor, sarà tutto reso abbastanza bello per stasera. Abbiamo trasformato una sala ricevimenti in un vero e proprio palcoscenico con luci, scenografia, una struttura che per l'appunto può essere sfruttata a 360 gradi. Sì, diciamo che la base e anche il discorso della banchettistica è quello che interessa di più a noi. Però anche la sala è polivalente, di fatti abbiamo proiettori, teli nascosti che al momento si vedono e escono fuori e quindi per proiettare, di fatti abbiamo un impegno con Benini, sabato molto importante, l'oncologo milanese che sull'alimentazione parliamo di 5-600 invitati a questo congresso. Ringraziamo Marcello Damiano e ribadiamo per l'appuntamento a questa sera. Volevo però menzionare ancora due persone in particolare, cioè Silvano Ciccarella che è un nostro storico collaboratore della redazione sportiva che con la sua azienda si è incaricata di realizzare le statuette di Telemolise del Cuore che andranno ai 5 sportivi e 3 premi del sociale e tutte le targhe che verranno per l'appunto consegnate questa sera. Quindi veramente un grazie a Silvano perché ha messo a disposizione di Telemolise la sua professionalità. Inoltre per quanto riguarda gli spettacoli, quest'anno ci siamo affidati anche alla collaborazione dell'Associazione Talenti e Artisti Molisani in primis con il presidente Michele Falcione con il quale abbiamo svolto molti briefing per organizzare questa manifestazione. Dopo tanto lavoro alle spalle ci siamo. Questa sera alle 20, Telemolise nel Cuore, il gran galà di Domenica Sport. Non ci resta che aspettare e godere a nostro avviso un vero e proprio spettacolo made in Molise.